Volevo spiegare a tutti i ragazzi, a tutti i miei fan, a tutta Italia che il gesto che ho fatto a Burger King è perché il ragazzo filippino che lavora all'interno faceva tanto il simpatico, il figo io sono tornato nessuno fa il simpatico, ok? perché se non è oggi, domani, tra uno, due, tre mesi io so dove lavori, che cazzo fa il simpatico? io mongoloide, sa dove lavori, ti metto dentro la frigitrice non è che vado a disturbare chi lavora io è quel ragazzo filippino che si faceva tanto il figo, eh tra il figo che esci dal locale e non hai consumato io sono tornato da solo e ho detto esci fuori, esci fuori io ho tirato un vassoio, un fascio i ragazzi sono più di un anno che non faccio reati e non temo nulla c'è un avvocato che è una spada c'è un altro che è ancora migliore c'è un altro che è ancora migliore Buongiorno!